Dopo il caso di una scuola elementare di Teggiano, chiusa per un paio di giorni per un contatto da Covid, poi risultato negativo, una nuova chiusura scolastica è stata disposta nel Vallo di Diano, questa volta a chiudere il plesso principale della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria e dell'infanzia dell'istituto comprensivo statale Falcone di Sassano, ubicata nell'edificio di Via Croce. La chiusura è stata disposta con ordinanza firmata dal sindaco Domenico Rubino, almeno fino al prossimo 10 febbraio. Il provvedimento, che prevede dunque la sospensione della didattica in presenza nell'istituto comprensivo di Sassano, si è reso necessario dopo che una docente è risultata positiva al coronavirus. Restano regolarmente aperte con didattica in presenza, fanno sapere dal Comune le strutture scolastiche delle frazioni Silla e Cagliazzano. Ad Aulette invece rientro tra i banchi di scuola posticipato a domani, dal momento che nei giorni scorsi si è svolto uno screening sulla popolazione scolastica e si è in attesa dei risultati dei tamponi che dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. Il sindaco Pietro Pessolano ha dunque firmato un'ordinanza di proroga della sospensione della didattica in presenza nei plessi scolastici di ogni ordine e grado fino a domani, mercoledì 3 febbraio, mentre nella giornata di ieri è stata eseguita la sanificazione del plesso degli elementari, medie e infanzia di Auletta. Rientro in classe domani anche per gli alunni di Sant'Arsenio, come disposto dall'ordinanza a firma del sindaco Donato Pica. Oggi è ancora in corso lo screening volontario dei bambini dell'Istituto Comprensivo ai fini della ripresa delle attività didattiche in presenza da domani.